Tre anni fa è nata questa grande struttura, siamo a Kempischi Adriatic Hotel. Noi ci troviamo veramente vicinissimi all'Italia, a 30 minuti da Trieste, praticamente siamo nella prima cittadina chiamata Salvore subito dopo il confine. Noi siamo una struttura nuova, abbiamo aperto nel 2009 in agosto 186 camere, due suite presidenziali bellissime. Quindi poi c'è anche una spa? Sì c'è anche una spa di 3000 metri quadri, c'è una bellissima spiaggia privata, un stupendo centro congressi, il quale può ospitare 250 persone, anche lui direttamente sul mare. Oggi siccome è una giornata bellissima, soleggiata, ci siamo decisi per una scelta primaveriva e estiva fresca. Questa è una crema di peperone giallo, usciuta dal peperone giallo con olio d'oliva mate della zona. Questa si beve, la cosa interessante che vorrei menzionare è il fatto che i peperoni sono stati cresciuti nell'orto del nostro albergo. Poi il secondo piatto che vorrei presentare oggi è un filetto di branzino, branzino di mare aperto, dell'Adriatico, su verdure di stagione. Brevemente vorrei presentare allora il nostro chef Alex, il quale ha preparato tutte queste pietanze squisite oggi, la nostra vice direttrice, la signora Fiorella, e il nostro direttore F&B, il signor Iadra. Ricordiamo il sito? In Google basta scrivere Kupinski Hotel Adriatic. Kupinski Hotel Adriatic, quindi vi aspettano volentieri. Grazie, grazie. Grazie.